Musica Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Apriamo con la cronaca dalla provincia di Venezia. Andiamo a Chioggia. È morto Paolo Marangon, l'uomo di 67 anni che a Chioggia era caduto dopo essere stato colpito da un giovane. Tra i due era nato un diverbio perché sembra Marangon uscendo da un portone lo avesse urtato. Il giovane andando su tutte le furie lo aveva colpito pretendendo le scuse. Il 67 anni era caduto a terra battendo violentemente la testa. Le condizioni apparse subito gravi, avevano lasciato un filo di speranza ma nella notte l'uomo è morto. Cambia a questo punto anche l'accusa nei confronti dell'aggressore. Parliamo dei dati Covid, numeri alti in Veneto, regione che registra un altro balzo in avanti nei contagi del Covid. 5.460 casi nelle ultime 24 ore. Un dato che tuttavia risente dell'accumulo delle segnalazioni non elaborate nel weekend. Purtroppo alto il numero dei decessi. Il bollettino della regione segnala 19 vittime in 24 ore. I totali dall'inizio della pandemia si aggiornano così a 2.597.671 per quanto riguarda le infezioni e 16.110 per i deceduti. Scende invece il numero delle persone attualmente positive a 56.559. Sostanzialmente stabile la situazione clinica, i malati Covid ricoverati negli ospedali del Veneto in area medica sono 1.639 più 9, quelli in terapia intensiva 68 meno 1. E adesso parliamo di un incidente avvenuto all'alba di oggi ad Affi in provincia di Verona. Sentite. Alle prime luci di mercoledì 13 dicembre, un mezzo pesante che trasportava mele si è ribaltato sull'autostrada 22, al chilometro 224, tra gli svincoli di Affi e Verona Nord. Il mezzo è finito di traverso occupando tutta la carreggiata. Disagi anche nella carreggiata di senso opposto. Ferito l'autista, subito preso in cura dal personale sanitario del 118. I vigili del fuoco arrivati da Verona hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l'autostrada in direzione sud è stata chiusa al traffico per consentirne il recupero. Disposta la chiusura dello svincolo in entrata della stazione autostradale di Affi. Lunghe code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche la polizia stradale e il servizio di assistenza autostradale. Scene raccapriccianti a Venezia dove ha sfilato sul Canal Grande un camion con l'effigie di Mussolini e la scritta Duce. Il mezzo di una ditta di trasporti è stato caricato su una chiatta che è stata in seguito ormeggiata davanti a un famoso hotel. L'immagine di Mussolini, bianca su sfondo nero e sul parabrezza del mezzo in maiuscolo la parola Duce. Il tir che probabilmente appartiene a un fornitore è stato notato da molti veneziani e turisti che con sdegno e indignazione ovviamente si sono fermati a guardare. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato accertamenti. Potrebbero infatti esserci gli estremi per valutare una denuncia di apologia di fascismo. La procura di Venezia ha disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 114 mila euro nei confronti dell'ex dipendente dell'azienda di trasporti veneziana accusato di essersi intascato i soldi della vendita dei biglietti di trasporto pubblico. I fatti si riferiscono al 2019. Sono emersi da un'indagine della Guardia di Finanza. I biglietti venivano affidati a rivenditori. Il dipendente ritirava il denaro che poi avrebbe dovuto dare all'azienda ma in realtà veniva versato nel suo conto e in quello di un'altra persona. L'uomo che è stato già licenziato dovrà restituire l'intero ammontare. È accusato di peculato. E dopo la bufera che lo aveva travolto a Padova, il professor Litta, medico ginecologo molto noto, è stato assolto dall'accusa di peculato e truffa all'USL. Secondo le accuse il dottore era stato ripreso mentre chiedeva del denaro a una cliente per velocizzare i tempi di attesa di un'operazione. Parliamo ancora di un incidente in provincia di Padova questa volta. Andiamo a este dove nello scontro tra due mezzi due persone sono rimaste ferite. Terribile incidente tra due auto ad est nel Padovano. Intorno alle 13.30 di oggi, martedì 13 dicembre, due auto si sono scontrate all'altezza di via Deserto. Due le persone rimaste ferite nell'incidente. Necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco, giunti dal locale di staccamento, che ha consentito la messa in sicurezza dei mezzi e l'estrazione della 55enne rimasta bloccata dentro l'abitacolo dell'auto. La donna è stata subito affidata al personale sanitario per le cure necessarie. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale, per deviare il traffico ed eseguire i rilievi dell'incidente. Qualità della vita in calo nel Veneto, dove gli indici di quasi tutte le città sono in flessione nell'indagine annuale realizzata dal sole 24 ore. Solo a Padova, che figura però al 29esimo posto generale, guadagna posizioni rispetto alla graduatoria del 2021. Poche le posizioni di spicco, eccetto Belluno, che diventa prima della nuova edizione dedicata a ricchezza e consumi. Venezia si segnala invece per l'ottavo posto nella sezione affari e lavoro. Il capitolo giustizia e sicurezza vede un buon risultato per Treviso, settima e Belluno, nona. Ancora un buon risultato per Treviso nella classifica che misura la qualità della vita delle donne. La provincia della Marca è seconda in Italia, ma perde il primato che aveva conquistato nel 2021. E adesso parliamo di caro energia, una notizia importante arrivata oggi dall'Antitrust, che ha emesso provvedimenti contro sette società di energia. Sentite. L'Antitrust ha avviato sette provvedimenti contro le società di energia Enel, Eni, ERA, A2A, Edison, Acia ed Engie, per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. I consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione sono oltre 7 milioni, di cui oltre 2 milioni avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo. La norma sospende dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023 l'efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura, sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. Alle sette società viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale, inviate prima del 10 agosto 2022 e in seguito le proposte di aggiornamento di rinnovo di prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo. Le imprese dovranno quindi sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 e inoltre dovranno comunicare all'autorità le misure che adotteranno al riguardo. Entro sette giorni le imprese potranno difendersi e l'autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari. Fuochi d'artificio vietati dal 30 dicembre al 6 gennaio a Treviso, provvedimento che si è reso necessario sia per tutelare gli animali ma anche le persone ed evitare feriti tra i cittadini. Stop dunque sia a fuochi d'artificio ma anche allo sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici in tutto il comune di Treviso. Parliamo della Natale, parliamo di un bellissimo concerto nella Basilica di Santa Giustina a Padova, giovedì 15 dicembre alle 21. Il Natale è occasione di incontro e di gioia e quest'anno dopo la pausa dovuta alla pandemia torna al tradizionale concerto di Natale offerto alla città dall'Associazione Medici in Strada in collaborazione con il Comando Forze Operative Nord dell'Esercito Italiano. Nella meravigliosa cornice di Santa Giustina saranno le musiche di Vivaldi eseguite da camerata accademica diretta dal maestro Paolo Faldi e brani natalizi. L'ingresso è libero ma chi vorrà potrà fare un'offerta per l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell'Esercito. Continuiamo ancora a parlare di Natale e allora andiamo a Bibione per la terza edizione del Natale di Sagome. Ritorna al Natale di Sagome a Bibione grazie all'iniziativa di NextArt e alla collaborazione del Comune di San Michele al Tagliamento che per il terzo anno consecutivo accoglie il presepe di Sagome nel lungomare di Bibione dall'8 dicembre all'8 gennaio. La novità di quest'anno, oltre a vantare di essere ancora l'unico del suo genere in Italia è che ben sette scuole e un nido del territorio san michelino partecipano alla colorazione delle sagome. L'iniziativa è rivolta ai cittadini, agli artisti e alle associazioni che sono invitati a partecipare per colorare le sagome bianche posizionate lungo il tratto di spiaggia che parte da via Procione e arriva fino al faro. Per la creazione delle sagome sono stati utilizzati materiali di riciclo come bicchieri di plastica o pezzi di corteccia. Si tratta di rendere collettiva un'installazione a beneficio non solo del territorio ma di tutte quelle persone che scelgono Bibione come meta estiva e invernale. Partecipare è semplice, basta recarsi all'inizio della passeggiata del lungomare, scegliere una sagoma bianca libera e dedicarcisi dipingendola in loco. Lo scorso Natale hanno partecipato artisti da tutto il Veneto. L'associazione Next è fiduciosa che la cosa si ripeterà anche quest'anno. E Natale ovviamente è anche tempo di regali e quindi di acquisti. E allora la Polizia di Stato ha diffuso alcuni consigli per comprare in sicurezza nel web il servizio della nostra redazione. Il Natale alle porte e con esso la corsa al regalo perfetto. È importante però stare attenti e non cadere in trappola, in particolare per quanto riguarda gli acquisti che si effettuano online. La Polizia di Stato ha emanato dei consigli per fare acquisti a distanza e in sicurezza. La cosa principale è informarsi, tramite la lettura delle descrizioni e il confronto di diversi annunci, senza farsi allettare troppo da un importo molto basso, prediligendo annunci con foto chiare e dettagliate. Fondamentale è contattare l'inserzionista, tramite la chat ufficiale, diffidando da chi chiede con insistenza di essere contattato su email o chat alternative. Importante poi proteggere i dati personali e sensibili, valutando sempre attentamente quali dati fornire, pensando se siano davvero necessari. Non utilizzare mai link esterni o non sicuri, in cui vengono richiesti dati di pagamento sensibili. Scegliere sempre i sistemi di pagamento e spedizione ufficiali, integrati nel processo di acquisto in app. E infine dare sempre la propria opinione, prediligendo gli affari con utenti valutati positivamente. Ed ora parliamo di clima. Fino a domani, condizioni di alta pressione sui monti, le temperature sotto la media specie durante la giornata di oggi sono state la caratteristica predominante. Sulla pianura invece non vengono segnalati aspetti degni di nota. Poi nei prossimi giorni arriverà una depressione da nord-ovest, con precipitazioni che saranno attese in particolare nella notte tra giovedì e venerdì. Siamo arrivati al termine di questa edizione delle notizie dalla Veneto. Vi ringrazio tutti voi per l'attenzione. Vi do la rivederci a domani. Buona serata. Grazie a tutti.